Ritorna anche quest'anno a Pagani la Sagra dell'Ognocco alla Fontana, giunta alla sua sesta edizione. L'iniziativa è organizzata dalla parrocchia Gesù Risorto al fine di ricavare fondi per ultimare la costruzione del nuovo complesso parrocchiale. La specialità della Sagra è appunto l'Ognocco alla Fontana, sulla cui ricetta, per ovvi motivi, gli organizzatori continuano a mantenere il massimo riservo, ma ne assicurano la bontà anche per i vegetariani. Siamo praticamente alla parte finale del complesso parrocchiale ed è un po' come nelle case, la parte finale è un po' quella più dura e più difficile, l'arredo, i vari particolari da sistemare. La Sagra è nata proprio sette anni fa, sei anni fa, per aiutare un po' l'economia della costruzione. Voglio dire a tutti che l'Ognocco alla Fontana è possibile mangiarlo anche per chi è vegetariano. Oltre all'Ognocco avremo tantissime altre cose, dai dolci fatti dalle signore, dai panini con varie verdure, salsicce e cose varie. In più quest'anno, come l'anno scorso, avremo la braciola, un'altra chicca che è da assaggiare. Poi avremo anche la fragolata e tutto. La Sagra sarà accompagnata prima dai murales e poi ci saranno anche varie attrattive, ci saranno dei cantanti la sera. Il Festival dei Murales si svolgerà sabato 31 maggio nel corso della Sagra dell'Ognocco alla Fontana. Il nostro concorso ha come titolo Terre avverenate iCare. Questo titolo è grazie al tema molto attuale dell'inquinamento, che coinvolge non solo le terre intorno a noi, ma anche la nostra zona dell'Alo. Per l'appunto, il fiume Sarno, essendo il fiume più inquinato d'Europa, ci coinvolge comunque in primi. Per l'appunto, il fiume più inquinato.